Salve a tutti ragazzi e bentornati da McShowsha! Oggi proviamo per la prima volta E-Football 2025! Il nuovo aggiornamento di E-Football quindi è come se fosse uscito un nuovo gioco Anche se, in teoria da questo aggiornamento Dovrebbe chiamarsi solamente E-Football Abbandonando il numero Però io vedo 2025 e son pronto a provarlo Hanno aggiunto un nuovo modo di fare i dribbling, i contatti Tante piccolezze che io me le ruberei dai football Eh, signori dfc Iniziamo ragazzi Già UFL è stato rimandato a Burn Non mi aspetto chissà che Però è comunque una novità È gratis Vabbè ci sta regalata la solita caterva di roba, ok? Un paio di cose Adesso voi vedete E-Famme giocare Ci regalano, visto che è il lancio Andare a spacchettare un pochino con quei giocatori un po' più interessanti che prendiamo Li mettiamo nella squadra e li proviamo Oh, 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 guarda qua, guarda qua Questa è nuova? Beh, giustamente Un anno a calciare i rigori Vediamo che hanno messo Oh Parte Castolo Parte Castolo Che se voi avete vissuto la Master League Conoscerete molto bene Vediamo un po', ragazzi Se ci sono nuovi premi O se sono quelli vecchi Eh no, Frank Ribery della Fiorentina E-Famme vedere un po' Oh, raga, a me mi dovete dire quello che vi pare Però ste carte sono troppo belle Frank Ribery un po' impaurito quando giocava nella Firenze Viola Col boost Va bene Accordo al buio di Dietro Gba Bello Qui ragazzi entrate una volta al giorno e tirate il calcio di rigore Ci regalano Robert Lewandowski del Barcellona E l'Eruesene del Bayern Monaco Possiamo ingaggiare dieci giocatori di una squadra e dell'altra, credo Penso lo sapete, però non sono quelli che voglio provare io Se shoppo 3 euro mi danno pure David via Che sei un po', così Gli slot booster sono nuovi booster attivabili utilizzando realizzazioni booster Cazzo, guardi Welcome to eFootball Quindi se iniziate, ragazzi, vi regalano Messi Che però, raga, vi posso dire una cosa Io ovviamente me lo prendo Vai, ragazzi, è il nostro primo pacchetto di eFootball 2025 E si parte subito con il botto Con i fogli d'attificio Non lo avevo neanche visti tutti Però erano buoni perché ti dà Donnarumma Ti dà Fagioli Ma soprattutto ti dà Messi Che è l'ennesimo Messi E infatti questa cosa, ragazzi, io la voglio un attimo sottolineare Cioè nel senso Bellissimo che te lo diano Cioè, che voglio Cristiano E a proposito di Cristiano Lo hanno messo negli if Ci andiamo a prendere un giocatore del Barcelona Comunque è incredibile, ragazzi Anzu, fatisi Stia ancora qua Tutti i potenziabili Allora, se proprio dovessi scegliere Vorrei Balde, grazie Vorrei Balde, così lo proviamo Lo mettiamo a sinistra E stiamo tranquilli Però l'ho chiamato E quindi sarà Ferran Torres Mamma mia Io devo starmene zitto Porca miseria Ferran Torres Che potremmo tranquillamente non utilizzare L'ultimo mi pare che si bombava La figlia di Luis Enrique Però ragazzi Ci abbiamo anche gli epici Van Nister Roy Edgar Davids E Franco Baresi Allora, mi pare Franco Baresi ce l'ho già Me lo eviterei Mi sa che ste pescate le lascio lì Puoi trovare Roland Pure Gudi Azz Azz Io ce l'avevo un Gudi Però mi sa non questo Davids sarebbe figo Però ragazzi Cioè ce ne stanno tanti belli qui Ah, Peter Seaman Emmanuel Pedit Dixon Van Bui Van Bui Tutti speciali No Franco Baresi Vabbè, nessuno è interessante Però Baresi devo dire Che almeno sui football È una delle carte Più forti in difesa Che ho provato Ma a noi ci esce Camavinga Camavinga ce l'ho già In una versione molto potente Pure lui è molto forte Devo dire Camo Camo Vabbè, allora ricordiamocelo Magari Camavinga Lo mettiamo nella versione Quella che già ho Ricordo ragazzi E questo qui lo potete sempre potenziare E fa pure il terzino sinistro Camo E invece ragazzi Se avessimo dei contratti mirati Potremmo prendere uno di questi qui Che c'hanno delle carte bellissime Come se fosse un pick E invece questi sono gli if Porca miseria ragazzi Paradossalmente Cristiano è il più scherzo Eh, non si muove questo Cristiano Vabbè, ci abbiamo tre giri Io me lo farei ragazzi Vabbè, Fernand Torres Essere sicuro Vai, primo giro Sognando Cristiano Ronaldo Sarebbe bellissimo ragazzi Vediamo chi ci esce Oh Primo vero pacchetto Che dipende dalle nostre chiappe E il portiere Michael Vabbè Comunque Beh, non ce l'avevamo Cash per Michael Figlio di Peter Chissà che ha fatto Nella Danimarca Per stare qua Vabbè Uno slot Che se ne è andato via così Almeno dammi Di Marco Dammi Di Marco No, Di Marco no Perché c'ho coso C'ho Camavinga Vabbè, vediamo Qualcuno di buono e divertente Oh Ma no Ma io so Che vengono al futuro Ma come è possibile Va bene Di Marco Che c'ha il suo game face Bello, bello ragazzi Federico Di Marco Comunque la carta con lui che sta così è bella dai Federico Di Marco Che corricchia C'ha un tiro a giro 90 Questi qui però non li possiamo potenziare Tra l'altro era pure uno dei più forti Con la skill tiro acrobatico Ecco, prima abbiamo parlato del fatto che regalano un sacco di Messi Ma la community vuole Cristiano Dicono, dacci Cristiano del 2008 Dammi Cristiano E va, te ne amo Oh, io ragazzi Io devo bestemmiare Mi ascolta Dai, Fernando Però corre 90, dai Almeno quello Dai, tiriamo a gratis sti giocatori E vediamo che esce Può darsi che non li potenzio al massimo, ragazzi Dipende che esce Veltman Mamma mia A che ce devo fare? Veltman, terzino destro Del S-Saxex Oh, guarda ragazzi La maglietta nuova della Lazio Doi giochi te, frate? Ah, nel Brighton Infatti te, non so giocare nel Brighton Però un epico, signori di football Oh Tenta un sette Mamma mia Orsonaldo Vabbè, sembra putrito Però vedete C'ha 32 livelli da salire Vedete, questi erano vecchie selezioni Questo era uscito Diciamo IF A dicembre 2023 Maddison Mamma mia Che schifo Tanto ragazzi Mi esce l'epico Mi esce Baresi Prango Oh, prango Attaccante Joao Pedro Il gabbiano Vabbè, tutti i del Brighton Me li devi dare Possiamo evitare? Capirai ragazzi Io sono abituato ai super giocatori Me dai questi normali Aspettate, aspettate Allora, attenzione Forse Ce siamo Uno buono Ah, Ruben Dias Vabbè Dai, ci posso stare Ci posso stare Ruben Dias Qua ragazzi Che non corrono Non vi preoccupate Perché A parte che li potete boostare E soprattutto potete creare La build che piace a voi Io lo potenzio al massimo C'ho 20 punti Ok, do io e li metto Magari in tutti in velocità No Però Potresti farlo Chi è questo? Easy Allora, diciamo che Ste pescate Non è che siano andate Molto a buon fine Forse questo Un po' meglio Visto che era l'ultima Però Non è che gli credo molto Dammi goody hats No Mi hai dato Dujan Vlaovic Vabbè Niente de che Grazie mille Dujan Lo potremmo provare Non questo Magari una versione Che c'ho io forte Allora ragazzi Sono finite le spacchettate Quelle interessanti Però oggi è il primo giorno Quindi possiamo andare pure al pacchetto Allora ragazzi Mi sblocco il pass Così prendiamo Pacchetta E comanna E poi ovviamente Più giochiamo E più sblocchiamo robe Ah ma spero ragazzi Ma se paga Prima partita su EFootball 2025 Vera E becchiamo il turco E a sto punto ragazzi Cioè mettiamo noi La maglietta nuova Questa qua De Neymar Non solo è un casino Mi sa Questa è la nostra formazione Dujan sta in forma Ferran sta in forma Pura Kraf E in panchina Vabbè qualcuno Dobbiamo provare Rafinha Vabbè Ce l'abbiamo ragazzi E poi mi sono portato Yamal Che è uno dei miei giocatori Preferiti Su EFootball Da quando l'ho provato Insieme a Neymar Ma quello del Santos No questo qui Vabbè questo è scandaloso Vabbè questa non conta Come è cambiato Si va si va si va Perché l'aggiornamento Deveva essere anche Grafico E faccio vedere Il dribbling Fines Pum Dusan Vlaovic In un buzzer d'occhio Li tira una saracca Dici vabbè che faccio Me lo fai fare Eh se glielo fai fare Dusan se la prende la valla E Messi con la 8 Non sto facendo bene Sta cosa Oh sono tirato con la porta Eh si con la porta Stavo entrando con la palla in porta Poi Kamavinga dice Aspetta Vi devo fare un big Nooo signore Non rovinare la partita Oh Kamaving pure tu Ma che sa fa Perché che ha fatto Eh capirai Vabbè signore Sto tutto contro ragazzi Contro tutto e tutti Vai Ney E' entrato Ney E' rientrato Va bene Messi Non era il tiro di potenza Ma trova l'angolino E te la butta dentro Leo Messi con 250 Versioni diverse Quasi tutte regalate Devo dire No mi sa che quella Che c'ho io più potente Ma la so scioppata Manco poco Dai Messi così Azzecca il tiro Azzecca l'angolo Bravo Neymar Bravo Neymar Rientra Ancora Neymar Sì Verso Fernanda Sì No Vedi 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 ragazzi Fa tutti sti numeretti Che voglio dire Se non sai giocare Non li fai Però poi c'è Di Marco Di Marco Di Marco Di Marco Viene accompagnato all'uscio Di Marco Di Marco Porca miseria ragazzi Entrava questa Proprio tu Risulta proprio così Perché Non lo sa manco lui Come ha fatto Alza la testa Dice vabbè che faccio Che faccio Che faccio Che faccio Dusan Dusan Ma questo attaccante Vero eh Non ha molto valore Io Non so se giocare O no Perché Ma così Magari Potrei aggiungere Il centrocampista Perché non mi sembra il caso Ti lo fa rimessi dai Ci metto Bruno Gimaraes Non sono concentrato Ma sono queste le partite brutte Quelle partite che Perdi Oppure comunque Ti abbassi E alla prossima che giochi Le freghi Perché Perché non sei più concentrato Eccolo Gimaraes Per Neymar Sito Porta rispetto Neymar Vedete È un Neymar diverso Da quello che avete visto Mio del Santos Forse era quello Prime Il momento non è Straforte Lo devi pompare Anche dei Neymar C'ho diverse versioni Sì Addirittura 7 Neymar Neymar Da lunga Neymar 5 a 0 Possiamo Salutare Messi Bomba Ragazzi Ma sta partita La partita Avvistato Qua Vistato Non lo vedete Ma Dove è Sì Sì Se metteranno Ma la Master League Penso No Diciamo che Adesso ci facciamo Una partita Vera Speriamo di Beccare qualcuno Di discreto La Roma GR Ok Quindi è Lazio Roma Il derby Solo con la maglietta Della Roma Farzocca Va bene Perché la Roma Non c'è più Sui football Ma è su fifa Allora Questa è la nostra formazione Nessuno di particolarmente Dedito a parte Dimash Ma lui Messi 100 Stoiccof 101 Neymar Van der Waart Rodri Jude Bellinghol Cavu Ben White Vabbè Kunde De Ligt E Skorupski In porta Ragazzi Mette Skorupski In porta O stiamo a giocare Contro Skorupski O se no Non si spiega Noi abbiamo però Francesco Dotti Gli potremmo Fa del mare Con se stesso Beh L'avversario Mi sembra Prepotente Dobbiamo stare concentrati Perché la partita di prima Ci ha solo fatto perdere tempo La metto magari solo per i gol Ma è questo Il derby Si va ragazzi Si va Si va Si va No Ecco Volevo di è partito Dusan Blauic Invece no Se la riprende Glimarais Fallaccia Mamma mia Questa è forte Tra tutti i boostati Bisogna stare molto molto attenti Ancora Glimarais Se la riprende Dusan Fernand Lasciano spazio Se la prende Con le fallo Signori Signori Non è che mi puoi votare la gente Però eh Si gira Bravissimo Dusan Blauic Si gira Blauic Si gira Aaaaa Questo è per tutti i fan Un gol bellissimo Mamma mia Dusan Blauic 83 Si gira Manda spasso il difensore Che era 99 Ma che abbiamo scoperto uno forte Abbiamo scoperto una perla rara Bello qui Non ci arriva Blauic Madonna Gli è entrato quei tacchetti Mo' mi caccia pure questo Guarda Guarda l'arbiro Ok Bruno G Sull'altro brasilero Cado Gli è entrato proprio Occhio raga Che lui c'ha il Neymar Che piace a me Lui ha il Neymar Che è quasi il mio giocatore preferito Palla lunga su Messi Certo Nooo Nooo Che culo Dai Ma che vuol dire Ma che vuol dire Deviazione che manda al baretto Schmeichel Primo tiro che subiamo Guarda A A Kraft A sfruttare la tua velocità KV contro Di Marco Di Marco lo manda al baretto Nooo Guarda dove passa Ancora Blauic Dicen Una grande azione di contropiede Dalla muerte Di miss spettacoli suoi Sì Sì E beh direte sì eh Leo Messi La sbadacchia dentro Upa che dà se gira Va bene No Tusan 2-1 Che non so che vi mostrerà Però vi posso assicurare Che è stata una partita Equilibrata Infatti vedete Ah io continuo così Poi Più avanti Se abbiamo bisogno Ci abbiamo qualche sostituzione Caffona Guarda come lotta Come lotta Chi mara esce E gli fanno fallo Ma l'arbitro non Ravarda Ravarda Sì 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 È certo E beh perché i falli In se fischiano no Che Ma che Ma che sei Oh sei un venduto Sei un venduto Che venduto Eh bravo Te l'ha regalata Eccolo Eccolo Fernan No De rimbalzo Ah sta per dire Fernan Torres N'ha fatto niente Ho trovato due volte Per non fare nulla Ed è fatto Il discorso era buono Il discorso era buono Bravissima Adesso si è svegliato Forza ragazzi Forza ragazzi Ah come chiudi Con la GPU Eh maledetto Allora ragazzi Ultimi 10 minuti Rivoluzioniamo Sta squadra Eccolo Yamal 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 In fondo Francesco Punisce la sua Roma Con la maglia Nella Lazio Ho appena entrato Prima azione Gol Ragazzi a volte Ci deve stare anche un po' di divino Nel calcio No Eccolo Yamal ragazzi Che è veramente troppo forte Bruciato E Mari Manca fischiato Ce la portiamo a casa Con i gol Della persona che meno ti aspetteresti Però adesso ci facciamo Un game Con la squadra migliore Che posso avere Questo per farvi vedere come cambia Però devo dire Che a livello di gameplay Ragazzi Sto più o meno lì A me non dispiace Non dispiace Vi dovete un po' abituare Però a livello di costruzione di gioco Insomma mi piace Poi c'è delle cose Che se venite da FIFA Magari apprezzerete di più Alcune apprezzerete di meno Ragazzi ma non capisco Mi sono tornati tutti in vita Pure quelli che non uso più Tipo Beck Nabeo Ah ma questo l'avevo trovato Vi ricordate appena era uscito i football Ma è tornato vediamo Durato il contratto non c'è più Anche se Baresi ragazzi Dai damo fiducia a Baresi Che è qualcosa che non si spiega Ce n'ho tantissimi Voglio un attacco pesante Voglio un attacco che dominava Gli anni 90 e 2000 Della serie A Uh Napoli Azza ragazzi Giociamo contro il Napoli E Napoli sia Allora Questi siamo noi Belli fomentati Mi piace Non so chi ho portato in panchina Eh Beck Nabeo Però sta in forma Dai Nesta Te faccio fuori per Beck Nabeo Eeeh Vabbè Va bene C'è pure Cristiano che è pronto Ma il mio avversario c'ha Ficcia per la schedia Turam Diego Maradona Vabbè ragazzi E Napoli Anghissa va bene Rudiger Dalot Vabbè Mbappé Squadrina C'ha la squadrina Io mi sono dimenticato Smaichol in porta Go Noi siamo sempre i gialli Ragazzi Mo vedrete tutta un'altra partita Perché Vedete C'è i giocatori Un pelo pompati Ma più che altro Sono forti Questi sono Sono veramente forti C'è C'è Questa fascia Yamal My gone Che sternaccio Signore Eeeh Signore Maradona Guarda che bello Maradona Ho un dubbio Chiedo che adesso Con sto Sto dribbling nuovo Poi se possa fare Un bel po' di roba in più Cosa che proverò subito Va Raffaeu Scatta sulla fascia Raffaeu Guarda che azione Regbistica No L'aveva sbagliata Al primo colpo Yamal Che azione Stile football Anzi no Stile rugby Perché Abbiamo fatto solo passaggi In orizzontale E in avanti Quindi Direi Regbistica Al 100% Se l'era mezzo Magnato Però c'ho due Che tirano delle saracche Voglio provare A fare Quello che facevo Quando giocavo io A PES 6 Soprattutto Ah teo che figo Con i tatuaggi I capelli tirati indietro Ecco sta roba Se De tanto in tanto La facessero pure Su fifa Non sarebbe male Cioè ovvero Aggiornare Le facce La grossa E la pennella Arriva lui No le ha Sui coglioni Del portiere E vabbè Allora non dobbiamo segnare Dimmelo E ho E ho Boom L'ha presa Non dovevo far quello Va bene Adriano Va bene Imperatore Però all'Imperatore Gli dovevano mettere Gli scarpini torati E allora sarebbe stata Tutta un'altra cosa Chiamala La chiama La vuole La brama La brama L'Incol Sul primo palo Jude Bellingham Why you Why you Posso capire Che una squadra del genere Può spaventare Allora mi fa piacere Che mi abbiano Ridato i miei giocatori Perché fino all'altro E football Il contratto durava un anno Da quando lo trovavi E dovevi rinnovarlo Quindi l'hanno tolta sta cosa O semplicemente me le hanno ridati Perché è come se fosse un nuovo gioco Però io l'avevo trovati Tipo due o tre anni fa E non ci giocavo più Il Palermo Guarda che sodicità Però la formazione messa così Mi spaventa Vai ragazzi Palermo Lazio Occhio lui secondo me Sa giocare manco poco Dammi sta palla Io sono Funko Baresi Mamma mia Guarda come corre Guarda come corre Questo Goal E chi sei Rafa Leão Leão se ci avesse la testa E così dovrebbe giocare Andar dritto Però io vorrei provare a fare Quello che Per cui ho scelto questi attaccanti Che come detto Tirano delle micce E niente male Allora ragazzi Che squadretta Quei giocatori forti È tutta un'altra storia Yamal Ti entra La mette Bravo Yamal L'ho detto È diventato uno dei miei giocatori preferiti Dopo Ney Va tipo troppo più veloce rispetto agli altri Poi soprattutto Dribla Che è un amore ragazzi Tutti noi almeno una volta Ci siamo chiesti Come fosse Leão se fosse un calciatore vero No Bellingham Non devi risultare così Bellingham Cioè T'ho preso perché Devi risultare così Tutti noi almeno una volta Ci saremo chiesti Come fossero I giocatori senza denti La distuta Guarda va Sta questo tutto solo Bem Detestro Non è il suo piede Va bene lo stesso L'imperatore Chissà Che sarebbe successo Se rimarrà nei nostri cuori Ho due carte dell'imperatore Una così E una Diciamo Qualche anno prima A livello di giocatore Parlo eh Sono un po' più giovane Sempre con la maglia dell'Inter Ecco Ve lo fa questo Ma Ragazzi Non ci sono ben riuscito Col tiro super Di Adriano E di Batistuta Ma praticamente Non riesco a fare i contropiedi Vabbè Ce salutano Devo dire ragazzi Che come primo accesso Ai football 2025 Mi sono divertito Devo dire però Al di là Delle cambiamenti strutturali Quello ecco Dei boost Ste cose così Approfondisco In maniera molto velata È un gioco Secondo me PS gratis Speriamo bene Non credo che dall'oggi al domani Cambierà qualcosa Però Secondo me Se uno ci si approccia Poco 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 Si può divertire Sicuramente da adesso Fino a che non esce FC E poi vediamo Aspettiamo pure UFL Quello che manca veramente Sono le modalità Perché io adesso Me faccio altre partite Me ne vado in divisione più alta Però ho finito E soprattutto Se non mettono quei giocatori Che vale la pena Provare a trovare Indipendentemente da shoppare Basta un po' così Fatemi sapere che ne pensate Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao